Noi vogliamo prima di tutto salvaguardare il fiume Tagliamento cercando di fare un'attività di prevenzione. Non ci interessano le sanzioni, chi infrange verrà sanzionato, ma non interessa prima di tutto salvaguardare questa parte di fiume che il Tagliamento, siccome è considerato uno dei più bei fiumi alpini d'Europa, vogliamo che tale rimanga. E tutto rientra anche nel servizio a spiagge sicure, non solo spiaggia ma anche fiume e località sicure. Questo vogliamo dare ai turisti sia come immagine ma come attività vera e propria, per cui cerchiamo sempre di dividere il servizio delle forze dell'ordine in tutti questi settori. Diciamo che questo è un tratto dove alcuni proprietari di imbarcazioni tendono un po' a correre un po' troppo, non tutti ma insomma alcuni. Sì, quindi l'attività di prevenzione speriamo che serva proprio per far sì che ogni volta che affrontano questo tratto di fiume la velocità sia entro i senodi previsti dal codice della navigazione e quindi rispettare anche quelle che sono le rive di questo fiume. Grazie allora Assessore, mi rivolgo anche al Vice Comandante della Polizia Locale Lignanese Stefano Blaseotto. Come sta andando questa giornata di controlli? Quali sono alcune degli illeciti più frequenti? È stata stipulata una convenzione tra l'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro e la Capitaneria di Porto mirata proprio a svolgere questa specifica attività di controllo del territorio, in questo caso all'interno dell'acqua interna. Operativamente viene utilizzato l'apparecchiatura telelaser in dotazione del comando della Polizia Locale mentre la Capitaneria di Porto ha messo a disposizione un natante in caso di accertamento di violazioni sul superamento di velocità all'interno del fiume tagliamento dove vige un limite di sei nodi la Capitaneria di Porto procede al fermo del mezzo nell'imbarcazione del natante procedendo chiaramente al sanzionamento del comportamento in violazione tenuta. Finora ci sono stati dei controlli ma tutti dunque si stavano comportando correttamente? Al momento sì. Mentre nei giorni scorsi... Ho fatto ulteriori attività di accertamento nei giorni precedenti in cui sono stati sanzionati due natanti, due imbarcazioni. È preciso che nei prossimi giorni verrà esteso il servizio di vigilanza anche mediante l'utilizzo dell'ettilometro. Grazie. Grazie. Grazie.